E una proiezione. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, moti. Uno di questi punti è quello che riguarda il collegamento tra spirito e materia, se così vogliamo dire, al momento della formazione della creazione di un nuovo individuo incarnato sul piano fisico. Vedete, figli cari, ciò che vi porta fuori strada, che vi impedisce di comprendere nel modo giusto questo piccolo particolare, è il fatto che continuate, malgrado il nostro insegnamento, a considerare il corpo acasico come se fosse colui che fa. Il corpo acasico, qualcuno ha detto, ha scelto il corpo in cui deve fare esperienza. Il corpo acasico ha fatto questo, ha fatto quell'altro, come se avesse una sorta di propria volontà, tale da poter influire consapevolmente e nel modo migliore e più giusto, in quello che sarà il suo cammino attraverso l'esperienza del piano fisico. Ora, certamente, il corpo acasico è qualcosa di molto importante per ognuno di voi, questo senza alcuna ombra di dubbio. Però questa caratteristica di consapevolezza, questa caratteristica di coscienza, questa caratteristica di poter agire, di poter fare, diventa vera e pienamente effettiva in tutta la sua grandezza, soltanto allorché l'individualità avrà abbandonato il piano fisico, o meglio, per essere più precisi, soltanto allorché l'individualità non si incarnerà più sul piano fisico, allorché il corpo acasico avrà strutturato tutta la sua materia e sarà completamente consapevole. Prima di questo momento il corpo acasico può essere considerato l'antitesi dell'io, così come abbiamo detto che l'io in realtà è una proiezione del corpo acasico, al punto che osservando l'io ognuno di voi può arrivare a capire cos'è che il corpo acasico ha compreso o non ha compreso. Allo stesso modo il corpo acasico, per ambivalenza, come direbbe scifo, è ciò che l'io dimostra, in quanto sono strettamente dipendenti, legati l'uno all'altro.